christian thomasius l'illuminismo tedesco si è soliti farlo risalire a leibniz o insieme a christian thomasius vissuto tra il 1655 e il 1728 per convenzione si fa principiare l'illuminismo tedesco nel 1694 l'anno in cui thomasius prende a insegnare nella nuova università di halle che sarà poi un prestigioso e fondamentale punto di riferimento culturale per l'età della aufklärung o illuminismo in germania provocando provocando grandissimo scandalo thomasius tiene le sue lezioni in tedesco e non in latino e in tedesco sono anche scritte le sue opere più rilevanti tra le quali ricordiamo l'introduzione alla dottrina della ragione del 1691 e la introduzione alla dottrina dei costumi del 1692 i costumi a cui allude l'opera riguardano sostanzialmente l'etica l'impiego della lingua tedesca nelle lezioni universitarie riveste un significato molto importante analogo a quello rappresentato dal suo più importante antecedente storico che in area tedesca la traduzione della bibbia da parte di lutero utilizzando la lingua tedesca viene messa in questione una inveterata tradizione di scuola ma al tempo stesso si garantisce l'accesso alla cultura da parte di un pubblico più vasto che non conosceva il latino e di fatto si sottolinea in tal guisa la funzione pratica e sociale della filosofia con l'idea che tutti possano accedere al sapere filosofico come sappiamo l'idea della divulgazione è certamente uno dei tratti peculiari dell'illuminismo e della sua idea di produrre teste pensanti nella convinzione che ogni essere umano in quanto tale abbia la possibilità di pensare con la propria testa della prima fase del pensiero di thomasius nella quale egli agisce all'interno del gius naturalismo abbiamo un'opera davvero importante che si intitola fundamenta iuris nature et gentium letteralmente i fondamenti del diritto della natura e delle genti l'opera è del 1705 il gius naturalismo come noto consiste nel riconoscere l'esistenza di uno ius nature vale a dire di un diritto iscritto nella natura stessa delle cose lo ius nature si contrappone allo ius positum vale a dire al diritto positivo cioè posto stabilito dai singoli stati e dunque secondo convenzione e non secondo natura sulla scorta di cicerone e segnatamente del de officis dell'arpinate thomasius distingue tre valori fondamentali onestum iustum decorum a questi tre valori fondamentali corrispondono le tre attività umane della morale connessa all'onestum del diritto connessa allo iustum e della politica connessa al decorum l'onestum ha come proprio principio il seguente fa a te stesso ciò che vuoi che gli altri facciano a se stessi ebbene questo principio messo a tema da thomasius si risolve nell'ambito della coscienza interiore per quel che riguarda lo iustum proprio del diritto ebbene il suo principio cardinale dice thomasius è il seguente non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te questo principio proprio del diritto pertiene le relazioni tra gli individui e contempla una sequenza di obblighi e di divieti a cui ognuno è costretto a obbedire da una legge coercitiva infine il decorum connesso alla politica recita quanto segue fa agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te questo terzo principio fondativo della politica riguarda in essi esterni tra gli individui e prescrive comportamenti non già imposti dalla legge ma dettati unicamente dalla convenienza questi tre principi obbediscono però a un solo scopo uno scopo che al tempo stesso la destinazione dell'uomo la destinazione dell'uomo e dunque lo scopo di questi tre principi è per thomasius il vivere più lungamente più felicemente possibile in una seconda fase della propria riflessione thomasius prende le distanze dalla scuola del diritto naturale restando però sempre coerente con l'assunto già proclamato nelle opere gius naturalistiche della priorità della volontà sull'intelletto dunque thomasius predicando la priorità della volontà sull'intelletto predica in pari tempo la priorità della vita pratica sull'attività speculativa le astrazioni metafisiche dei grandi sistemi filosofici come ad esempio quelli di spinoza e di leibniz restano estrane agli interessi di thomasius e ciò anche in ragione del fatto che thomasius ammette che la conoscenza umana ha un limite invalicabile nell'esperienza dunque la filosofia non deve tanto elaborare sistemi concettuali astratti articolati deve invece secondo thomasius occuparsi dei problemi etici e deve altresì tradursi in un mezzo di orientamento razionale che guidi la condotta dell'essere umano per quel che infine riguarda la morale di thomasius essa risente notevolmente di influenze pietistiche e si incardina sul principio dell'amore del prossimo che poi è per thomasius il principio fondamentale che caratterizza l'esistenza umana va segnalato che thomasius ebbe anche forti interessi per la storia della filosofia proprio come padre jacob il maestro di leibniz tramite la storia della filosofia dice thomasius possiamo emanciparci dalle singole posizioni filosofiche e guadagnare una posizione eclettica vale a dire una posizione che permetta di scegliere il meglio di ciascun sistema filosofico questi suggerimenti sono sviluppati da un seguace di thomasius jacob brücher autore di una delle più rilevanti storie della filosofia dell'evo moderno opera di storia della filosofia che si intitola appunto storia critica filosofie ossia storia critica della filosofia l'obiettivo è quella di è quello di sottolineare la volontà di prendere le distanze dalle ricostruzioni scolastiche della filosofia che obbedivano a un preciso punto di vista interpretativo insomma già con thomasius e poi con il suo allievo brücher prende forma l'idea che la storia della filosofia sia una disciplina autonoma che non deve valutare le filosofie del passato secondo un punto di vista particolare ma deve limitarsi criticamente a esporre i temi fondamentali rappresentati da ciascuna delle filosofie che si sono succedute nel corso della storia del pensiero